I dati relativi alla presenza di donne in ruoli di rilievo sono ancora molto bassi in Italia, sia nella pubblica amministrazione sia nelle imprese private. Una forte disparità di genere si riscontra anche in termini di retribuzione e proprio per questo OTB Foundation, da sempre a fianco delle donne in Italia e all'estero con progetti volte alla loro tutela e valorizzazione, insieme all'Università di Padova e a Ca' Foscari di Venezia, due tra gli atenei più prestigiosi del paese, ha deciso di dar vita a un progetto a lungo termine. Volto a sostenere il percorso universitario di studentesse meritevoli e aventi i requisiti necessari per usufruire di un aiuto economico, contribuendo così a formare una nuova generazione di donne che in futuro guideranno le aziende e il paese. Le candidate hanno potuto scegliere tra diversi corsi di specializzazione che permetteranno loro di entrare nel mondo del lavoro in due ambiti particolarmente importanti, la pubblica amministrazione e la direzione di grandi aziende. Le 21 studentesse già impegnate nelle prime elezioni universitarie sono state selezionate da una rosa molto ampia di candidate, dopo aver superato le ammissioni e aver dimostrato di possedere i requisiti richiesti. Per OTB Foundation è fondamentale, così come per il gruppo OTB, sostenere le università più importanti e soprattutto in questo caso parliamo di donne. Pensiamo che il pubblico e il privato possono benissimo lavorare insieme, lì dove appunto non riesce a vivere il pubblico, il privato ha il dovere, il morale di riuscire a portare avanti quanto più Borsi Studio riesce. Il progetto è solo all'inizio, i corsi sono appena cominciati e le studentesse dovranno presentare un periodico sul loro percorso accademico per dimostrare di mantenere i requisiti richiesti dal programma, confrontandosi con obiettivi sempre più sfidanti. Mi rivedo in loro di quando avevo 23 anni, con le idee chiare però, perché vedo le idee chiare in tutte queste ragazze, quindi è un lato positivo che mi piace sottolineare e poi vedo la voglia di cambiare le cose ed è un sentimento che è importante e fondamentale per poter veramente riuscire ad avere una società migliore.